Il popolo del reddito di cittadinanza è sceso in piazza a Palermo per difendere il sussidio sociale introdotto dall'ex governo guidato da Giuseppe Conte. Una delegazione dei manifestanti ha voluto incontrare l'assessore regionale al lavoro Nuccia Albano per sensibilizzare l'attenzione del governo della regione siciliana nei confronti di questa delicata situazione. L'assessore ha riconosciuto la validità della misura, soprattutto nel periodo caratterizzato dalla pandemia. Logicamente questa misura ha aiutato tanto le persone in stato di indigenza perché abbiamo attraversato un periodo di pandemia e quindi è stata veramente una misura positiva. Inoltre la promessa di prendersi carico delle situazioni di difficoltà lavorativa lamentate dai manifestanti. L'assessorato al lavoro si farà carico di fare un tavolo tecnico con le imprese per verificare quali sono le maestranze più richieste di cui loro hanno necessità in maniera tale di portare avanti dei corsi di formazione e di apprendistato e poter dare un lavoro dignitoso a queste persone che oggi vivono con il reddito. In Sicilia da gennaio-ottobre del 2022, secondo i dati IMSS, ci sono stati 228.152 percettori dal reddito, il 17,7% del totale nazionale. Sul bilancio dello Stato per la sola Sicilia la misura incide mediamente per un miliardo di euro all'anno. La crescita delle bollette di luce e gas del carrello della spesa rende ancora più povere le famiglie che versano in condizioni disagiate e il rapporto Svimez prevede a livello nazionale 770.000 nuovi poveri. Sono numeri allarmanti, conclude l'assessore, che non possono essere nascosti o minimizzati. Rappresenteremo al governo nazionale tutte le difficoltà del sud.